Ciao amici come state? Spero tutto bene! Oggi ritorniamo dopo tanto tempo nella serie di Witchcry Ebbene si oggi torniamo qua perchè i Keplerians hanno rivelato delle informazioni ufficiali Ma non solo perchè è poi riuscita una nuova immagine che voglio vedere qui con voi Prima di partire lasciate un cosotto tantissimi like, iscrivete al canale con la campanella attiva E ci tenevo a ringraziare Benedetto Dieghi per aver fatto la donazione al canale Ti ringrazio davvero tanto per il grande supporto Bene se dire di partire, cominciamo! Andiamo a scoprire tutte le novità di Witchcry 2 Infatti questo gioco è stato sviluppato dagli Onigames Però viene distribuito dai Keplerians, quindi insomma un gioco ricco di segreti Che tra l'altro io penso che questo sia uno dei giochi più sottovalutati tra quelli pubblicati dai Keplerians Perchè c'è veramente tanta roba, ci sono tanti segreti, la storia è pure risultata molto interessante Insomma era un gioco molto bello, una serie molto carina da approfondire E sono curioso che molto presto uscirà il nuovo capitolo Quindi andiamo qua in partita Vediamo prima una piccola anteprima di quello che è Witchcry Dopodiché ci colleghiamo con la nuova immagine del capitolo 2 Allora come ben sappiamo all'interno di questo gioco Niente il personaggio è un bambino che da un momento all'altro si sveglia perché trova la porta Anzi la finestra aperta va per chiuderla e si ritrova catapultato all'interno di una casa di una strega E da qui noi dobbiamo scappare via, dobbiamo uscire Il primo capitolo è ambientato dentro questa casa Ma nel capitolo 2 ci saranno delle sorprese molto particolari perché siamo finalmente usciti fuori Ma soprattutto ci sarà anche un altro personaggio Ci sarà la bambina che troviamo proprio nel finale di gioco Allora per prima cosa dobbiamo uscire da qua va Quindi usiamo la fionda per prendere sta chiave Poi una cosa particolare di questo gioco è che c'è la magia Usiamo proprio la magia per fare non lo so degli incantesimi Per lanciare delle cose contro la strega Insomma devo dire che è un gioco che ha delle meccaniche molto particolari Potrebbero essere approfondite in un prossimo capitolo Soprattutto la magia, la bacchetta magica Cioè questo potrebbe dare una grande novità, un grande impulso al gioco Comunque Witchcry Siamo all'interno della strega cattiva Questa è la sua strega Immagino che molto presto possa uscire alla pre-registrazione Oppure magari c'è uscita Solo che io sto registrando il video prima Quindi spero che comunque non esca prima della pubblicazione di questo video Allora dove sta finita sta strega Strega dove sei? Eccola qua La famosa strega cattiva Questa qua praticamente rapisce i bambini Dopodiché se li mangia Infatti noi dobbiamo scappare via da questa casa Perché lei ci vuole mangiare Ci vuole masticare e digerire E poi buttarci in bagno A proposito di bagno Ma c'è un bagno all'interno di sto gioco Cioè io non ho trovato un bagno dentro sta casa Se proprio devo essere sincero Ma comunque a proposito di bagno Ah no aspettate forse state qua Eh sì no infatti mi sembrava Se non ci fosse un bagno Questo tecnicamente Più o meno un bagno C'è soltanto una vasca per lavarsi Vabbè comunque All'interno di questo gioco Ci sono dei segreti Che verranno pian piano svelati Sicuramente con i prossimi capitoli Prima di tutte Il famoso orco Qui c'è un orco cattivo Che è stato imprigionato dentro il muro Che noi dobbiamo proprio fargli pure il solletico ai piedi Sta cosa è stata veramente troppo divertente Fare il solletico qua all'orco cattivo Per recuperare il braccio che è lì in mano Il braccio che tiene in bocca Quello là è il braccio della strega Infatti non so se voi ci avete fatto caso Ma la strega è senza un braccio Ecco E si trova qua il braccio mancante C'è questo orco cattivo che lo sta tenendo in bocca E lo possiamo pure vedere qua da questo quadro Infatti qui guardate qua che cosa abbiamo Abbiamo proprio l'orco Che sta mordendo il braccio della strega E in contemporanea c'è lei che sta facendo un incantesimo all'orco cattivo Quindi cosa succede alla fine di tutto Che l'orco si prende in bocca il braccio della strega Ma in contemporanea l'incantesimo che la strega fa all'orco Lo va a rinchiudere all'interno di questa parete Qui davanti guardate è proprio rinchiuso qua E' un peccato che non ci sia un mod menu per sto gioco Perché io volevo proprio entrare dentro il muro Per vedere l'intero modello 3D dell'orco E però non c'è nessuna mod Volevo pure usare la mod per vedere come è fatto l'esterno Ma finalmente l'esterno lo vedremo molto presto nel capitolo 2 Comunque adesso voglio prendere qua un attimo Una cosa com'è che si chiama La bacchetta magica Ma per farlo prima dobbiamo proseguire un po' con il gioco Per prima cosa dobbiamo prendere Perché sono venuto qua? Cos'è? Ah la runa Ah si guardate qua tra l'altro cosa abbiamo Questo è praticamente Una foto di un bambino Chi sarà mai? Secondo me questo qua è il bambino della strega Che magari ha fatto una brutta fine Ed è per questo motivo che la strega è diventata cattiva Forse vuole vendicarsi contro un qualcosa Un qualcuno Chi lo sa? Comunque adesso Vabbè io adesso non è che mi metto qua a raccogliere rune Perché dobbiamo fare altro Dobbiamo recuperare Innanzitutto il calzino puzzolente Che si trova qua dentro Perfetto Mamma mia strega Ma perché non lavi bene le tue cose? Ma sto calzino puzzolente Io mi chiedo il personaggio come faccio a tenerlo in mano Ma come fai a tenerlo qua? Metti qua dentro Va perfetto Adesso dobbiamo recuperare la sprang Che si trova non mi ricordo dove Allora dovrebbe trovarsi o di sotto Di qua Oppure dall'altro parte Ok Vi ho recuperato la sprang Così possiamo proseguire velocemente Dovevo soltanto prendere una cosa La bacchetta magica Così faccio pure vedere una cosa molto molto particolare Quindi togliamo sto pezzo di legno Apri qua Perfetto E adesso dobbiamo prendere qua Il disegno dell'orologio Così possiamo pure mettere l'orario giusto E alla fine recuperiamo pure la piuma Che useremo per fare il solletti con l'orco Però questo lo droppiamo qua Che dobbiamo prima recuperare la forchetta Utilizzeremo la forchetta Per completare l'orologio Perché quanto pare Manca una lancetta Quindi lo useremo appunto per Per fare bene qua l'orario Ok metti qua Vediamo che ora dobbiamo scrivere Prendi qua il disegno Velocemente Ok Dobbiamo mettere tipo metà Fra Circa mezzogiorno E venti Una roba del genere Aspettate Che qua Mettere bene le lancette Non è neanche tanto facile Ok no Più che venti Venticinque Scusate Ma l'abbiamo preso qua Prendi qua la piuma Su su muoviti qua Che dobbiamo prendere tutto quanto Dobbiamo prendere sta bacchetta magica E quindi facciamo qua il solletico Vai 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 Il solletico L'orco cattivo Devo dire che però qua richiede troppo tempo Altrimenti È un bel problema Mentre facciamo il solletico La strega potrebbe venire Mamma mia Sto orco Ti si mette a gridare Ok E batti il 5 Su Accela qua davanti la mano Aprimi sto coso Dammi sto cd Che qua abbiamo tutto sto tempo da perdere Che poi non è neanche un cd È un vinile Vabbè Comunque sta roba qua Così possiamo proseguire Metti qua dentro Vai strega Vieni qua che ti sto aspettando Muoviti Dove è finita mo sta strega Dov'è Su Con calma E con molta calma Sale Da ste scale Dai Su Perfetto La strega si è avvicinata Adesso si metterà a piangere Ma noi possiamo sfruttare Quest'occasione Per prendere la bacchetta magica E tramite questa bacchetta Noi possiamo fare tipo degli incantesimi Dobbiamo fare delle Possiamo fare tante belle cose Però prima di poter fare l'incantesimo Abbiamo bisogno proprio di impararlo E per farlo dobbiamo proprio trovare I fogli sparsi per la mappa Ecco su Witchcry 2 Potremmo trovare nuovi fogli Con nuovi incantesimi Da imparare Soprattutto Sarà molto divertente Provarli con la strega cattiva Chiede magari un incantesimo Per congelarla Per bruciarla Per fargli tante belle cose Comunque adesso Dieni di fare una coda Passiamo alla nuova immagine Ufficiale di Witchcry 2 Ed eccola qua Nuova immagine ufficiale Guardate da qui Proprio la strega cattiva Lei è tornata Per te For you E qui siamo proprio fuori dalla casa Guardate Queste sono proprio le mura Della casa dove noi siamo scappati Quindi la strega Ci rincorrerà anche fuori Ma guardate a vedere queste immagini Vediamo che cosa c'è Innanzitutto possiamo notare qua L'icona di gioco Quindi questa sarà L'icona ufficiale Di Witchcry 2 Ma soprattutto Ci sono tante belle cose Oppure possiamo notare Il paesaggio Che ci sono proprio questi alberi Di questo bosco Di questa foresta Dove si trova proprio Questa casa Possiamo pure vedere qua Che ci sono dei fiori blu Chissà se questi fiori Avranno tipo Non lo so Un legame con il gioco stesso Oppure sono soltanto Come decorazione Quindi questa è la nuova Immagine ufficiale Fatemi sapere Con i suoi commenti Cosa ne pensate Soprattutto fatemi sapere Se giocherete Witchcry 2 Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Nel prossimo video Come sempre Vi auguro buon giornate Buon giornate Buon giornate Buon giornate Buon giornate Grazie.